ciao ragazzi innanzitutto e benvenuti in questo mio nuovo video io sono michele sfrutto queste bellissime giornate di novembre guardate che sole che c'è alle mie spalle per parlarvi di un argomento non così bello ovvero una multa di ben 3000 euro che mi è arrivata dall'agenzia delle entrate per un motivo che scoprirete voi stessi tra un attimo essere letteralmente assurdo no lei non è esattamente una multa è più una sanzione se non sbaglio comunque ora leggeremo tutto questo papiro che mi è arrivato il mese scorso e piccola premessa io ovviamente ho una partita iva in quanto devo dichiarare tutti i miei profitti che possono provenire da youtube o qualsiasi altra fonte e quindi devo ogni anno dichiarare i redditi lo devo fare ragazzi e la legge è così che funziona però quando succedono queste cose mi cadono non voglio essere volgare ragazzi però ora ora leggo così capite di cosa stiamo parlando allora dall'agenzia delle entrate gentile contribuente ogni anno l'agenzia delle entrate esegue dei controlli automatizzati e questo è un punto molto importante sul cui torneremo tra un attimo automatizzati per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti le comunichiamo quindi che sulla base di tali controlli la sua dichiarazione modello redditi 2020 presenta gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono può regolarizzare la sua posizione che gentili grazie per esservi preoccupati versando la somma di 3088,83 euro entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione che mi è arrivata tramite una pec ovviamente quindi una sanzione di 3088 euro e rotti per un problema sulla mia dichiarazione dei redditi di fine 2020 ora voi starete pensando vabbè michele non l'hai pagata non l'hai dichiarata hai fatto qualcosa di grave che ha comportato una multa così importante no ragazzi la mia dichiarazione dei redditi è questa correttamente compilata e inviata ovviamente datata fine 2020 ora qual è il problema raggetevi forte amici perché nella mia dichiarazione dei redditi di fine 2020 io dichiaro e pago 2733 euro più altre cosine pagate comunque in un'unica soluzione tenete a mente questo numero 2733 euro perché ora torniamo nella pec che mi è stata inviata dall'agenzia delle entrate e vi mostro qual è il mio qual è stato il mio gravissimo errore ho ecceduto nel pagamento della dichiarazione dei redditi ovvero ho dichiarato e versato più di quanto dovuto io avrei dovuto dichiarare pagare 2703 euro invece ho dichiarato e pagato 2733 euro quindi per aver pagato ragazzi io ho pagato 30 euro più di quanto avrei dovuto mi è stata inviata una sanzione di 3000 e passa euro potrei anche chiudere il video qui ragazzi perché questa è una cosa davvero assurda però è quello che è successo è successo davvero e purtroppo non succede solo a me ragazzi purtroppo questi errori sono molto frequenti ma perché ci sono questi errori ragazzi beh in un paese normale in caso di mancato pagamento in caso noi avessimo dichiarate versato cifre più basse di quelle reali dovute beh ovviamente arriva quanto c'è da pagare più una sanzione e se invece paghiamo più del normale sempre in un paese normale beh noi verremmo forse risarciti o nel minore dei mali ci verrebbe fatto un credito sul prossimo pagamento ma qui in italia funziona in modo totalmente diverso se noi sbagliamo e paghiamo di più beh dobbiamo ripagare l'intera somma più una sanzione come avete visto ok perché è successo tutto ciò ragazzi beh il motivo ve l'ho letto all'inizio di questa pec di questa lettera ovvero ogni anno l'agenzia delle entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare i dati in esse contenuti il motivo è proprio che ci sono dei controlli automatizzati è in quest'altro paragrafo della lettera si capisce meglio cos'è questa comunicazione questa comunicazione informa il contribuente degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla sua dichiarazione ed è inviata per consentirgli di regolarizzare la propria posizione beneficiando la sanzione ridotta grazie bene quindi cosa succede ragazzi succede che queste sanzioni non vengono inviate almeno da quello che c'è scritto poi potrei sbagliarmi da persone in carne e ossa che lavorano all'agenzia delle entrate a inps o chi per loro ma ci vengono inviate da un bot un algoritmo un programma che è stato ideato creato configurato controlla tutte le dichiarazioni dei redditi e quando ci sono degli errori inviano automaticamente alla nostra pec al nostro indirizzo queste sanzioni perché mi è arrivata una sanzione di oltre 3000 euro per 30 euro di pagamento in eccesso beh perché da quello che mi è stato spiegato dal commercialista questi programmi sono programmati davvero male e quando rilevano un errore per loro il pagamento che è stato effettuato ovvero questo qui è completamente nullo e rinviano l'intera somma da pagare più la sanzione di 300 euro e passa che vi ho mostrato poco fa e io trovo che sia davvero assurdo perché ragazzi io ovviamente sono riuscito a dimostrare di aver pagato dovrebbe essere morta lì spero in caso comunque vi aggiornerò con un altro video io fortunatamente avevo tutta la documentazione dei miei pagamenti salvata ma pensate a chi non ha questi documenti sotto mano per un qualsiasi problema vengono cancellati vengono persi beh si è praticamente costretti a ripagare l'intera somma e trovo che sia assurdo ragazzi trovo che sia assurdo non riesco a capire come possano esserci questi errori perché ragazzi io dico nella mia ignoranza quando il programma dell'agenzia delle entrate o chi per loro rileva questi errori perché non si accende un led rosso negli uffici di questi di questi signori è una persona in carne e ossa va a controllare la reale veridicità di questo errore non penso che manchino dipendenti qui all'inps o ovunque perché perché non viene fatto perché quando ci arrivano queste lettere oltre a un mezzo infarto procurato beh noi perdiamo giorni perché per andare dietro a sta cosa dobbiamo perdere giorni fissare appuntamenti cercare documenti e quindi si perdono soldi si perde tempo e si perde tanto tanto altro quindi se per loro siamo solo dei gentili contribuenti che contribuiscono pagando soldi tanti soldi io vorrei che magari ci fosse una persona vera che controlla queste sanzioni prima di inviarle perché ragazzi sarebbe un controllo di pochi secondi come avete visto bastava aprire questo controllare la somma fare meno è capire che io ho pagato più del dovuto e non c'è nulla di di così tragico da mandare una lettera con 3.000 passa euro di sanzione vabbè ragazzi che altro posso dirvi mi sono un po sfogato perdonatevi ma quando leggo queste cose quando mi arrivano io sono resto davvero allibito resto un po schifato da come funzionano le cose qui in italia ci si lamenta che in tanti non dichiarano i propri profitti i propri redditi però ragazzi se devono esserci cose del genere beh io ho paura davvero nel dichiarare quanto guadagno quanto devo versare perché c'è mi arriva una sanzione 3.000 euro non è una cosa da prendere alla leggera però voglio sapere ora voi cosa ne pensate beh fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto vi chiedo inoltre la massima condivisione perché queste sono cose che difficilmente vengono a galla io ve ne sto parlando in totale trasparenza spero voi possiate apprezzare quello che faccio per voi e se volete quindi condividete questo mio video a più gente possibile in modo che tutti sappiano come funzionano perdonatemi ragazzi sono ancora un po nervoso in modo che tutti sappiano come funzionano le cose qui in italia ovviamente un like per supportarmi e iscrivetevi a questo canale se non avete già fatto io vado a farmi una camomilla vi saluto per qualsiasi domanda chiarimento se è successo anche a voi volete dei consigli beh vi aspetto nei commenti e alla prossima ragazzi ci vediamo sempre qui sto addicta to tech ciao belli